Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A12 ci sono 4,5 km di coda tra Versilia e Massa in direzione Genova. E rallentamenti per lo stesso motivo tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Sulla Fipilì in direzione Pisa un chilometro di coda per lavori tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze ci sono rallentamenti per lavori tra Lavoria e Pontedera Ovest-Ponsacco. Sulla Statale 1 Aurelia rallentamenti prima di Cecina Centro in direzione Genova e prima di Cecina Nord in direzione Roma per la chiusura di una corsia. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di San Casciano Nord in direzione Siena per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon viaggio.